Al Giacobane, a caso eh, diciamo, poi... Tutti gli atleti, ne vedo tanti in fondo ancora, vicino a Franzegna, faremo un minuto di raccoglimento per ricordare due persone cari e tutti i nostri cari. Ci sono sempre tutti per fare la funzionatura. Grazie, siamo pronti? No, io ho fatto un po' di risposta, eh? Ok, come on, let me? Ok, come on? 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 Oh, ok, come on? Atto! bravo Anto, no no, c'è in su, no c'è in su, bravi ragazzi eh, va volto, vai Simo eh, va volto, vai Simo, grazie Simo, non c'è a memoria eh Simo, dai Simo, bravi, bravo Marco, guarda via, un cori aria? No, no, vai Daniele, come si chiama? Vai Guam, vai, vai, bravi, 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 bravi ragazzi, bravi ragazzi, quello lì è biondo, ma si chiama? Bravi, senza non scivolare, vai Anto, vai Sorsi, vai Mario, vai Marietto, guarda anche te, brava, brava ragazzi, c'è un'altra donna avanti, hai visto? Eh? C'è un'altra donna, non l'ha vista, è una dei Montecasini, casa, non so come si, è un'altra donna avanti? Si, è un'altra donna avanti, vai Emma, che può poter vedere? Boh, si vede il partito da Ghiacca, Vai Claudiano! Bravo Clan! Eco e angelo! Vai Miche! Dio, ch assi che... Trovamoo! Trovamo! Cambiamo ora! Giù eh! Un frenato! Via che ricomincia a correre da laggiù! Usa piedi! Usa piedi! Tira il freno a mano il cane di scena! Scusate! Ma comunque non arriva male! Vai Jessica! Buongiorno eh! Buongiorno ragazzi! Forza! Questa è una gotta di resistenza eh! Nino la vince e non va di genza! Non è niente! No! Se può cascare casca! No! Buongiorno! Forza ragazzi eh! È una gotta di resistenza! Chi non la vince non va in leggezza! Matteucci! Non lo capite! Io voglio proprio trovare il muore! Ciao va! Ciao! Buongiorno! Quindi la palla era quarta! Quarta è quinta! 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 Quinta è quinta! Ma ti hai sbagliato secondo me! Sì! È una donna! Dio 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 Dio! Ma io stai davanti alla Reghele come fa? È una donna! Non mi sono accorto! Cioè i pantaloni tipo a calcio con numero 8! Ora quando si scende di io te lo dico! È infatti l'altra volta a Montecatini! Brava che è! No! Ma come fa essi davanti alla Reghele? Che ne so! Quella è la gigrista! Che ha vinto a Montecatini! Sì! È la gigrista! Allora è lei! Allora è lei! È lei! Bravi! Bravi ragazzi! Buongiorno! 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 Io la divisa! La divisa che è . Dio Bonuno va sempre a me! Stanno fare alle divise noi! Eh vabbè! Anche vecchia Quella c'è, c'è! No! Bravo! Grazie a tutti. 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 Amore. Di là. Da quell'altra. Bella fatta bene. Quante chiavi dà. in realtà è che ti prendo. Il cappello però devo vestire. Hai trovata? Sì, sì. E vai! Tu mi doveva far male. Mi copri! Vai! Sei! Staccate il cartellino. Buon amici! Sei! Sì! All'interno del ciclo. Gira! Eccoli che arrivano! I ragazzi. Ma le andate. Perfetto. Guardatevi riprendere. Quattro gara. Dato se le vanno per la Cristina Magnaio. Siamo grassi. Grazie. Ecco la Mirta. In grande spinta. A la Mirta. Sei! Mi prendiamo la mano. Vengo! 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 Sei! Vengo! 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 E qui è Luigi. è irma bå siellä. Vengo! Vengo! Vem! Vengo! Vengo, vengo. Siamo due randaggi, arrivo, la società, staccando il capellino, e non dici che no, che va da fuori, e aspetta la gara dell'isolotto lei, quella che fa le istruzioni, la gara dell'isolotto, e guardate che fanno i ragazzi, il capellino, e adesso in Pasquale, e ricordo, i primi tre andavamo sul podio, eccolo, ecco, vediamo questa nuova carota, ah, tu, ecco, oggi il capellino ci voleva, ecco, c'era di Natale, ragazzi, eh, ecco, franzi, patrizia, ecco, ecco, vai, vai, Doviamo spostare qualcosa? Grazie a Daniele, ricordo che Rachele ha vinto anche di Bellino, ha fatto un plan quest'anno qui a Vangili. Vai alzate le braccia!